allora 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 oggi complessivamente si legge sul milano finanza di oggi 12 stati membri sono direttamente interessati da riduzioni parziali o totali della fornitura di gas e tra questi ci sono anche l'italia dove la quota di gas russo è già scesa dal 40 al 25 per cento e la germania aspetta aspetta perché c'è la presidentessa che parla l'ursula von der leyen ha annunciato che putin continua a usare il gas come un'arma aggiunge dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas persino a un'interruzione completa della fornitura da parte della russia desta quando fa caldo e tutti pensano alle vacanze e tutti sono impegnati a fare altro piano piano poi ti dicono la verità vi ricordo che solo settimana scorsa draghi ha detto un'altra cosa a proposito ursula von der leyen è quella lì che a davos il 24 maggio del 2022 diceva l'ucraina deve vincere la guerra con la russia e oggi dice che putin continua a usare il gas come un'arma e che quindi potrebbe succedere di tutto non è finita andiamo avanti una bozza del piano di emergenza stanno parlando del piano di emergenza per fronteggiare il progressivo calo delle forniture da mosca accelerato dei tagli unilaterali tagli unilaterali di gazprom che vanno ben più veloci delle sanzioni questo piano di emergenza sarà preparato per il 20 di luglio ci siamo 20 di luglio stanno organizzando il piano di emergenza vorrei ricordarvi avrò chiudo velocemente parentesi poi vi leggo altre mosse le mosse di bruxelles che c'è insomma non è un problema no c'è la riduzione ormai cosa dobbiamo fare cioè la il ridimensionamento dei consumi calmerare i consumi il problema è economico il problema è di sicurezza cioè quando parliamo all'interno di questo canale siamo un po' seri su questi argomenti nelle riflessioni e le conseguenze che possono esserci a seguito di questa situazione cioè non è che ci cambia o meglio cambia chissà che cosa alla persona fisica se tra le quattro le sei della mattina decidono di spegnere tutti i lampioni semafori faccio per dire no in un eventuale piano di emergenza o se si riduce negli edifici pubblici di due tre gradi quest'inverno il riscaldamento noi dobbiamo vedere queste situazioni da un punto di vista di conseguenze complessive a livello di economico che danni fanno ste robe qui a livello economico di aziende perché poi quei danni lì li paghiamo noi con aumenti dei prezzi situazioni situazioni che sono imprevedibili che non possiamo in questo in questo momento non abbiamo contezza delle conseguenze indirette capite non quelle dirette a me riscaldamento a casa mia no indirette secondo la sicurezza vi ho fatto altre volte gli esempi in casi di blackout sugli ospedali no ma voi immaginate i semafori i semafori a napoli e se spengono scusa ho sbagliato ad esempio a milano per dire tra le quattro le sei di notte ma non lo so cioè potremmo fare degli esempi incredibili perché la complessità del nostro sistema di civiltà in cui viviamo basta che li togli una cazzatina e ha delle conseguenze e quindi e quindi dobbiamo dirci poi le cose come stanno cioè noi per colpa di questi rimbambiti rimbambiti come dicono non so dove che dicono rimbambiti dobbiamo entrare nel caos cioè non so se capite cosa voglio dire no perché poi leggo io mi sono già preparato il fotovoltaico io c'ho la stufa a legna io c'ho beh spero che almeno per voi vi siete organizzati ma le conseguenze di un sistema nel complesso a causa di questi signori di questi poteri centralizzati dei capi dei capi che prendono decisioni e contro la propria società contro la propria popolazione ricadono su tutti noi questa è la riflessione e le ricadute sono imprevedibili in questo momento cioè dovrebbero essere loro che fanno questi piani di emergenza a capire come muoversi noi abbiamo già parlato all'interno di questo canale si sta pensando la protezione civile è stata allarmata l'esercito la polizia per questo autunno inverno inverno per quello che può succedere ah no di questo non non abbiamo non ne abbiamo parlato qui no andiamo avanti allora andiamo avanti con le notizie quindi cosa è successo che non c'è non c'è solo sta notizia qua allora nel prepararsi allo stop russo l'unione europea ha fatto una giravolta doppio carpiato tuffo nel mare più blu il parlamento europeo ieri ha dato il suo benestare si legge su sole 24 ore di oggi all'atto delegato presentato dalla commissione europea è relativo alla classificazione verde delle fonti di energia ve la faccio breve cioè hanno detto che il gas e il nucleare possono essere definite delle fonti energetiche green abbiamo assistito ad un atto di sporca politica è un risultato scandaloso nel gas nel nucleare sono fonti sostenibili hanno commentato ancora i parlamentari verdi del gruppo europarlamento non so se è chiaro hanno votato sta roba qui perché l'unione europea ha detto da adesso in poi tutto ad essere green tutto verde speranza ok ci sta il momento che stiamo vivendo insomma dobbiamo approvare quindi anche il gas nucleare all'interno delle fonti green se no è una contraddizione cioè che fai perché perché c'è bisogno di prepararsi per ulteriori interruzioni della fornitura di gas anche attenzione un taglio completo della russia ha spiegato la wonderlion quella dell'ucraina deve vincere la guerra contro la russia altra informazione le riserve di gas in europa in questo piano di emergenza che dovrebbe quindi aiutarsi non si aiutano i paesi le riserve di gas in europa in questo momento sono piene al 50 per cento vi ripeto la quota del gas russo in italia è scesa mi hanno la finanza dal 40 al 25 per cento perché si è iniziato delle riduzioni parziali o totali in alcuni casi totali in europa di forniture del gas non nel nostro caso l'articolo del sole 24 ore conclude così con la guerra in ucraina e la crisi economica è prevalso il realismo affidarsi alle sole energie rinnovabili e parso costoso a non pochi deputati eccetera 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 quindi con la guerra in ucraina e la crisi economica ha prevalso il realismo peccato che al suo 24 ore fino adesso sono stati ben poco realisti e mi verrebbe da chiedervi se adesso siete realisti fino a ieri nella vostra comunicazione quella giusta quella non fatta di fake news cosa avete raccontato agli italiani e alla popolazione tutta grazie a tutti